. Perché William e Kate non possono tenersi la mano, e Harry sì. Da quando sono usciti allo scoperto a Toronto, lo scorso settembre il principe Harry e Meghan Markle sono stati più volte pizzicati mano nella mano. E, i più attenti osservatori della Royal Family, si sono chiesti perché al contrario della neocoppia William e Kate, per mano, non si vedono mai. La risposta? È molto semplice. Non c'è, fortunatamente, nessuna legge che impedisca ai futuri re o alle future principesse di inscenare in pubblico gesti d'affetto. . Eppure, vedendo la distanza che il principe William e Kate Middleton tengono in pubblico, la domanda se la sono posta in parecchi, perché, i due, non si tengono mai la mano? Non è solo questione di baci o di carezze, neppure il più semplice e il più innocente dei gesti affettuosi li ha, quasi, mai visti protagonisti. . 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 Salutando di volta in volta la situazione in cui si trova. Harry da tutto questo si è chiamato fuori. Per forza di cose, ma anche un po' per carattere. E, nel suo passato, ha già dato prova di sentirsi un ragazzo come tutti gli altri. Facendo ben altro, che tenere la mano ad una ragazza e. Grazie per la visione!